assumere? no 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 perché la presa per il curo del Stefano io mi metto vicino è stata un'azione un po' lecchina no perché voglio dire se io mi metto dopo che ha detto lui una merda fuma lui si è alzato se scusa mi sono fumato già sette tu ti sei mangiato quattro pacchetti lui se scusa mi mi metto il boemo di roma est che fuma solo in ufficio prez che il prez non fuma fuma solo a finestra regolarmente chiusa come il boemo dentro la macchina lui va all'ariello nazionale non romano un po' lecchino suddista che viene qui a roma a far carriera e a prendere i soldi nostri ma con l'ostrezzazione politica se li guadagna sul campo perché non va in giro con la clock dopo quattrocentoventotto sigarette Stefano io fumo però mi metto vicino ti dà fastidio se mi metto alla finestra ma io mi stai a piar per culo? no ma vaffanculo va secondo te stavo male vediamoci lei la Ferrari prodotto italico con ostentazione positiva italica tu stai vicino alla finestra tu passerai alla finestra una sola parola non merita parole non merita parole vai alla finestra accendi la sigaretta fumate un po' per favore mi sto sentito sto in astinenza dal vostro fumo indotto voglio essere passivo voglio fumare passivo meglio che questo che il discorso di Lucchino Montegevole in inglese arabico maccaronico che è veramente terrificante sono pulsanti che è il suo che sono? i chansi e che fai se sono i giupi giù? sono anche meno e che fai se sono i giusti e che fai se sono i giusti è un po' lenta è un po' lenta anche un po' poco arrogante ora scatta la presa d'aria stiamo senza tecnologia stiamo senza tecnologia è stata a fastidio la Ferrari a noi di meraviglia e che fai se sono i giusti